Procedono le vaccinazioni agli over 80 qui al centro sociale Monaldi di Pesaro. Tutto funziona in maniera regolare, non si sono create code e vengono vaccinati circa 60 anziani all'ora. Mi ha fatto senso la gentilezza di questa gente che si è dimostrata molto. Forse queste malattie servono all'umanità per farci diventare più buone. Perché ha deciso di fare il vaccino? Perché io ci credo. Un po' di dolore? Assolutamente niente proprio. Si sono messi ordinatamente in fila aspettando il proprio turno. Al centro sociale Pino Monaldi nel quartiere Celletta di Pesaro la campagna di vaccinazione anti-covid per gli over 80 prosegue in modo regolare. Ad accogliere gli ultraottantenni all'esterno della struttura i volontari della protezione civile che indicano loro il percorso da seguire. Gli anziani arrivano con i moduli già precompilati. Chi non ha la possibilità di stamparli a casa li troverà comunque nelle sedi vaccinali. Poi una volta entrati all'interno, ognuno con il proprio numero, dovranno passare dal banco per l'accettazione dove staziona il personale amministrativo e sottoporsi alle domande dei sanitari per l'anamnesi. Terminata la consulenza, l'anziano viene fatto accomodare in una delle postazioni vaccinali presenti per ricevere la prima dose. L'operazione dura meno di un minuto, il paziente si siede, riceve l'iniezione, poi resta in osservazione in un'altra sala per 15 minuti. Se tutto risulterà normale, all'anziano viene consegnata in seduta stante la data per il richiamo, che si terrà dopo 21 o 28 giorni, a seconda del vaccino inoculato. Sono bravissimi e non si sente assolutamente niente. Dal punto di vista organizzativo sono stati bravi? Molto, tutto perfetto. Tutto regolare, tutto perfetto. No, niente, non si sente niente, è un attimo proprio. Che ha deciso di fare? Ci siamo prenotati. Ci siamo prenotati tutto, così siamo tutti in regola. È andata benissimo, tutto a posto, è stata una meraviglia veramente. Tutti bravi e quindi io ho completato quello che è il mio dovere da cittadino. Le ha fatto male? No, 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 niente, niente. Ho detto, beh, ora devo tornare fra 21 giorni per fare il richiamo e spero che tutti quanti fanno il vaccino perché è un bene per loro e per gli altri. Ma sono contenta di farlo perché voglio stare più su sicuro. E non ha paura? Ma che paura? Anzi, prima lo faccio e meglio è. Non ha paura, non è preoccupata? Beh, un po' sì, un po' sì. Ritengo che sia importante farlo ed è giusto. Così la spanghiamo, dico, questa corona. Speriamo di farcela tutti insieme. Al centro sociale della Celletta è stato allestito anche un gazebo per l'attesa. Questa mattina anche da parte del sindaco Ricci è stato fatto il sopralluogo. Altissima partecipazione e tantissime adesioni, ha dichiarato il primo cittadino, è la dimostrazione della grande voglia che in tanti hanno di uscire al più presto da questo incubo. Grazie. 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 Grazie.